Musica Il nostro format è dedicato alle imprese del territorio, all'economia del territorio e ovviamente poi a un'analisi generale sulla situazione nazionale dell'economia del nostro Paese. Una puntata straordinaria questa rispetto a quella ordinaria del venerdì perché abbiamo una importante notizia che arriva proprio dai nostri territori grazie a due aziende che hanno qui le loro radici. Io do quindi subito il benvenuto all'amministratore delegato di DS Diagnostica Senese, il dottor Massimiliano Boggetti, ben trovato. Buongiorno, grazie mille dell'invito. E poi do un ben trovato, noi ci eravamo lasciati all'edizione 96 di Palio un po' di tempo fa con il dottor Baccheschi di Achilles Vaxin, ben trovato. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora, dicevo una notizia importante che vede protagoniste queste due aziende, DS e Achilles Vaxin insieme per le nuove terapie basate sugli anticorpi monoclonali. Dottor Boggetti, iniziamo un po' a raccontare questo lavoro che vi vede protagoniste insieme. Sì, con grande piacere. Io sono molto felice di annunciare anche qua, attraverso la vostra rete televisiva, questo accordo che abbiamo siglato insieme a Baccheschi e Achilles Vaxin, che rappresenta per noi un'opportunità molto importante per una serie di motivi. Il primo, ovviamente perché, come poi racconterà il mio collega, si tratta di un terapeutico contro il Covid, ma non solo. Secondo, perché si tratta, per me è molto importante, di due aziende che da questo distretto, da questo territorio, fondano le loro radici e trovano in una sinergia anche spaziale, oltre che di prodotti e di tecnologie, un aspetto di grande rilevanza. Ultimo e non ultimo, perché entrambe abbiamo competenze molto particolari e molto specifiche, che messe insieme in realtà espandono la loro capacità tecnologica e si portano ad avere addirittura un passaggio successivo. Ovviamente il Covid è l'opportunità del momento, ma non solo, perché come racconteremo durante questa intervista andremo a fare molto di più e se andrà tutto bene per lungo tempo. E questo ovviamente ce lo auguriamo, questa è una bella notizia dentro, una buona notizia appunto del lavoro di queste due importanti aziende. Dicevo, quando ho presentato e salutato il Dottor Baccheschi, noi ci eravamo visti insieme per un'intervista all'interno di un format di Confindustria nel periodo allora paliesco, si facevano ancora i pali quando ci siamo visti la prima volta, poi purtroppo è successo tutto quello che stiamo vivendo. Vorrei però riprendere la nostra narrazione da lì, Dottor Baccheschi, raccontare un po' cos'è Achilles Vaccine, perché in quel momento noi raccontavamo proprio l'inizio della storia di nuovo senese di questo progetto, di questo gruppo che ha riscelto Siena per fare leva. Ci racconta un po' da lì cos'è successo in questo arco di tempo e poi andiamo ovviamente sull'oggi. Grazie mille. Achilles Vaccine si nasce da un'idea che è quella che secondo noi porterà alla biotecnologia del futuro. È un ritorno al passato in sostanza, l'occasione del Covid e di quello che ha portato in qualche modo a noi è diventato un acceleratore di un processo. Il processo è quello di riunire sotto una stessa leadership, sia scientifica che poi operativa e industriale, chi fa vaccini e chi fa anticorpi monoclonali. Per noi l'anticorpo del professor Rappuoli, che è stato scoperto e poi brevettato all'interno del Mad Lab, che dirige proprio il professor Rappuoli, è stata l'occasione per sviluppare un prodotto e svilupparlo sotto il cappello di un'azienda che normalmente fa vaccini, quello che siamo noi. Perché? Perché anticorpi e vaccini adesso stanno sempre più vicini, perché abbiamo visto con la pandemia che non è più possibile aggredire una malattia infettiva solo con un vaccino, ma serve anche spesso il presidio dell'anticorpo. E questa cosa per noi è un ritorno al passato, perché a Siena la vecchia sclavo, per tornare agli origini e anche al discorso che facevamo nel lontano agosto, Anche il richiamo del nome insomma raccontato. Il richiamo del nome è presente proprio per questo anche, faceva immunizzazioni passive, cioè i sieri, faceva vaccini e faceva anche diagnostici. In qualche modo questo ultimo accordo che abbiamo fatto sta proprio a sottolineare questa necessità. Adesso è importante che si rimettono insieme le forze di questi tre ambiti di ricerca e sviluppo per dare delle risposte concrete ai problemi di oggi. Ecco, quindi avete sentito dalle parole del dottor Baccheschi come sostanzialmente questi fili della storia, queste radici, le radici contano sempre in ogni storia, rappresentano dei cardini su cui poi si è ricreato le strutture attuali che stanno portando veramente a Siena ad essere una delle capitali sicuramente italiane, ma possiamo dire europee in questo ambito. Queste radici quindi sono state importanti e sono radici che hanno anche spinto lei, il fondo francese, che insieme hanno creduto in questa storia senese, a proposito di passi di storia. Beh sì, decisamente, nel senso che ovviamente il richiamo ad Achille Sclavo nell'azienda di Baccheschi in realtà risuona anche in DS Diagnostica Senese perché quattro fondatori nascono appunto come spin-off di quel tipo di filone scientifico. Negli ultimi 40 anni l'azienda è diventata un'azienda sempre più internazionale, sempre più grossa e oggi l'anno scorso noi abbiamo festeggiato i nostri 40 anni ed è anche bello vedere come un'azienda storica del tessuto faccia sinergia invece con un'azienda nuova come Achilles Vaccine e credo che in questo momento noi ci proiettiamo nei prossimi 40 anni con tante idee, tra cui quella che stiamo sviluppando insieme ad Achilles è molto interessante anche perché non solo fa leva su quella che è un po' diciamo la paura del nuovo millennio, le cosiddette pandemie, quindi creare in Italia, e questo ci tengo a dirlo, un presidio molto importante di due aziende, una che produce anticorpi monoclonali contro patologie virali, un'azienda che è specializzata come la mia nella produzione di kit diagnostici per queste patologie, credo che rappresentino un asset estremamente importante, questi giorni si parla molto della ricostruzione di una filiera nella salute nel nostro territorio e soprattutto in Italia, credo che questo che noi abbiamo fatto totalmente in maniera indipendente perché questo non è una sinergia che noi abbiamo annunciato che nasce dalla volontà di seguire una scelta politica, è innanzitutto una volontà industriale che nasce con l'obiettivo di rispondere a dei problemi di bisogni di salute e questo credo che poi rappresenti il vero valore di quello che stiamo facendo, che è un progetto vero, nel senso è un progetto che fonda l'interesse sulla risoluzione di problemi reali in un mondo che affronterà l'endemia Covid perché ovviamente la pandemia si sta trasformando in un'endemia con questo virus, noi dovremo averci a che fare nei prossimi, nel prossimo futuro e auguriamoci di no ma dobbiamo anche prepararci in maniera migliore per affrontare eventualmente crisi analoghe a queste. Allora torniamo a uno degli elementi cardini ovviamente di questo vostro lavoro insieme e iniziamo un po' a raccontare i passaggi e partiamo allora, l'ha citato lei prima, dottor Baccheschi, dal Mad Lab, dal lavoro del dottor Rappuoli, da questi giovanissimi ricercatori che sotto la sua guida sono riusciti ad ottenere gli anticorpi monoclonali. Allora ripartiamo un attimo da lì e qual è il vostro ruolo in questa filiera? Allora il ruolo è un ruolo essenzialmente di coordinamento di guida fino ad oggi perché esattamente nel giugno dell'anno scorso noi quando abbiamo ottenuto i fondi del malaria fund che ci hanno autorizzato in via straordinaria vista la pandemia a dedicare una parte del finanziamento sul prodotto di Rappuoli ci siamo occupati dello sviluppo industriale del prodotto. Quindi in quel momento esisteva un brevetto e basta. Quindi quello che abbiamo fatto noi insieme al team del Mad Lab è di trasformare il brevetto in prodotto in un tempo record. Io ricordo ancora la presentazione che abbiamo fatto al scientific board del malaria fund e dissero non ce la farete mai a fare un prodotto in sei mesi, l'abbiamo fatto in sei mesi e mezzo che è un record assoluto. E questa cosa però adesso finalmente ha portato a un prodotto vero quindi in questo frattempo utilizzando servizi di tantissimi e bravissimi devo dire fornitori esterni questo prodotto è stato prima è stato diciamo caratterizzato a livello di chiamiamolo noi le chiamiamo Research Cell Bank che è la madre del lievito per capirci da cui poi viene prodotto nei bioreattori il prodotto vero e da lì via via in questa filiera siamo arrivati al prodotto al prodotto inteso come materia prima poi all'infialamento e infine adesso esiste una fialettina che speriamo nei prossimi giorni andrà in prova clinica. Quindi questo è stato il nostro lavoro adesso sempre su diciamo su accordi fatti con TLS che comunque è ancora ovviamente il coordinatore centrale di questa parte legata al brevetto stiamo dando una mano anche per la parte clinica abbiamo già ingaggiato le CRO, le Clinical Research Organization che si occupano della clinica e loro faranno il resto del lavoro. Quindi a questo punto ci aspettiamo dei buoni risultati ma lo dirà ovviamente il campo a questo punto. Allora per noi un piccolissimo break pubblicitario diamo la linea alla regia poi torniamo in diretta qui dagli studi di Siena insieme al dottor Boggetti e al dottor Baccheschi per parlare di lotta al covid ma non solo. Eccoci ritornati in diretta dalle sue di Siena, Step Economia e territori, Step i passi, i passi dell'economia, i passi delle aziende in questi tempi così complessi che stiamo vivendo e questo è il filo del nostro racconto in diretta sui social di Confindustria con Canale 3 e il nostro partner tecnico. Oggi parliamo ovviamente del tema del momento della lotta al covid e lo facciamo con due importanti aziende del nostro territorio Achilles Vaccine DS e Diagnostica a Sienese. Allora dottor Boggetti vorrei tornare a lei proprio su questo. Abbiamo capito quindi come è nata la storia delle monoclonali a Siena e la sinergia spontanea mi viene da dire che le vostre aziende hanno deciso di porre in essere. Facendo un passo indietro io vorrei tornare su alcune tematiche che noi abbiamo affrontato insieme e che vedono la sua azienda protagonista in Italia, fra i leader in Italia, della serietà, mi permetto di dire perché è importante usare alcune parole in dei momenti visto i tempi che viviamo, la serietà sulle diagnosi legate al covid perché anche in questo ambito purtroppo è stata fatta molta confusione. Sì è stata fatta tantissima confusione, le linee guida stanno uscendo adesso dal Ministero per il cosiddetto testing dei diagnostici e devo dire che ancora secondo il parere di un mio come industriale in questo settore ancora non sono completamente chiare. Abbiamo visto che durante l'intero periodo, la prima e la seconda ondata, si è cercato di affrontare una situazione di emergenza e che adesso la situazione di emergenza non rientra e continuiamo ad essere in una situazione di grande confusione. Detto questo sì, noi abbiamo una lunga storia, purtroppo è lunga, nel testing del covid perché siamo stati i primi a lavorare insieme allo Spallanzane di Roma da cui abbiamo preso il virus, il primo virus che è stato isolato in Italia da quella coppia di cinesi e lo abbiamo coltivato nei nostri laboratori ad alto contenimento biologico proprio qui sul territorio di Siena e da lì abbiamo brevettato un metodo per inattivare questo virus e usarlo come matrice per i nostri test diagnostici. Quindi noi abbiamo puntato tanto sulla qualità e la serietà dei test, abbiamo puntato tanto sul fatto che i test dovessero essere fatti in laboratorio perché allora la tecnologia non era ancora pronta, oggi invece la tecnologia si apre anche a un testing fatto in maniera più rapida e da qui l'accordo che abbiamo siglato con Achilles Vaccine a cui faccio i complimenti non tanto perché abbiamo siglato un accordo ma perché è una delle poche aziende nel settore dei vaccini che sceglie in fase anticipata di ragionare su un companion diagnostics, ovvero un test associato al vaccino in una fase anticipata modulando le nostre ricerche e sviluppo per arrivare ad una combinazione di vaccino e diagnostico contemporaneo che credo sia stata la grande lungimiranza di Riccardo e del suo team che ci ha poi portato a siglare questo accordo. Dottor Barcheschi, io vorrei raccontare adesso insieme a lei, l'abbiamo già fatto proprio quando furono fatti i primi passi sulle monoclonali con il dottor Rappuoli in studio con noi, a questo punto è passato del tempo e quindi come lei diceva siamo adesso ovviamente in una fase nuova. A chi ci sta ascoltando da casa, quindi un pubblico molto eterogeneo, ci racconta in maniera semplice qual è il funzionamento di queste monoclonali quando si potranno usare, che tempistiche prevedete e un po' l'iter che sarà necessario perché diventino uno strumento efficace. Allora, è una risposta che richiede un po' di premesse e mi scuso se magari mi dilungo troppo, però siccome circolano anche tante cattive informazioni, è veramente una buona occasione per me finalmente adesso poter spiegare bene qual è lo stato dell'arte di questi prodotti. Prima di tutto gli anticorpi monoclonali sono un presidio che fino ad oggi è stato prevalentemente utilizzato per malattie oncologiche di ambito oncologico e di autoimmunitario. Quindi raramente si sono utilizzati nelle malattie infettive. Questa è la prima cosa che va detta perché altrimenti sembra che stiamo parlando di un qualcosa di routine che non è. La seconda cosa da dire è che fino ad oggi tutti gli anticorpi monoclonali contro malattie infettive sono stati somministrati per via endovenosa. E questo è un altro aspetto cruciale perché i pochi che sono stati sviluppati fino ad oggi per malattie infettive riguardano malattie molto gravi, tipo l'ebola per esempio, che quindi richiedono interventi al momento in cui la malattia si manifesta in maniera molto pesante con dosaggi grossissimi e quindi anche con costi molto elevati. L'approccio che cerchiamo di avere noi con questo anticorpo è un approccio innovativo in questo senso perché si riesce ad abbassare data la potenza di questi anticorpi la dose in grammi, in milligrammi in realtà, del prodotto tanto da renderla somministrabile per via intramuscolare. Questo cambia completamente l'utilizzo del prodotto. Adesso questa cosa è di fatto la prima volta che viene testata. Speriamo che vada bene ovviamente. Se dovesse andare bene non è solo un grandissimo passo avanti nella lotta contro il covid ma è anche un cambio di passo, di paradigma vorrei dire nel mondo degli anticorpi monoclonali perché questo aspetto farebbe sì che tutti gli altri anticorpi monoclonali in futuro possono essere sviluppati in questo modo. Quindi per via intramuscolare e con un uso potenzialmente non più terapeutico e basta ma anche profilattico. Tanto da rappresentare una sorta di complemento al vaccino in certi casi. Dico questo perché? Perché c'è un altro aspetto da tenere presente che nell'uso di questi anticorpi è fondamentale la tempistica. Abbiamo visto dalle esperienze per esempio fatte dagli unici due anticorpi in commercio in questo momento sul covid che sono quello di Regeneron e quello di Lilli che per il loro funzionamento è estremamente importante l'utilizzo nei primi giorni della malattia. Si parla di 3-4 giorni per ottenere il massimo effetto di questi prodotti. Nasce da qui la necessità quindi di una diagnosi precoce e anche nasce da qui l'idea di avere un diagnostico estremamente flessibile da poter usare come si dice in termini tecnici point of care cioè nel luogo dove poi si può anche somministrare il prodotto perché in quel modo uno ha modo di verificare l'insorgenza della malattia in tempi rapidi e poi trattarla subito con l'anticorpo. Questo è un po' il motivo per cui secondo me è nata questa alleanza che credo sia veramente la prima di questo genere in Italia e ovviamente parte da qua perché qua siamo ma questa teoricamente è valida, questo approccio è valido per qualunque prodotto, qualunque anticorpo contro qualunque malattia infettiva. Allora stiamo raccontando come avete visto una storia operativa di serietà fra aziende che dialogano e mettono insieme degli step, dei loro know-how. Vorrei allargare adesso la nostra analisi alla situazione regionale. Tra l'altro il dottor Boggetti è da poco presidente per Confindustria proprio della commissione legata alle aziende farmaceutiche e dispositivi medici per rappresentanza appunto di Confindustria per la Toscana. Allora la regione a suo avviso il dottor Boggetti cosa deve fare, come può essere un asset positivo il governo regionale per questo tessuto importantissimo fra i più densi italiani di aziende farmaceutiche e dispositivi medici che una regione ha e che dovrebbe essere una risorsa super in questo momento. È una domanda complicata Masone, comunque quello che credo le idee siano abbastanza chiare su quello che si deve fare. Innanzitutto la prima degli aspetti importanti è prendere coscienza delle eccellenze che ci sono nel territorio cosa non necessariamente scontata, parte anche del mio ruolo, adesso tolgo il cappello di industriale quello del cappello Confindustriale e anche con le regioni di mettere a contatto, tra l'altro un assessore della sanità arriva proprio da questo territorio quindi conosce molto bene le esperienze e le competenze di questo tessuto, quindi mettere a contatto le aziende del territorio con la parte politica e cercare sicuramente di aiutare, ma non tanto con l'aspetto delle sovvenzioni, a noi industrie non interessano le sovvenzioni, noi facciamo impresa e quindi a noi interessa risolvere i bisogni di salute, però comprendere anche che cosa queste aziende hanno bisogno per potersi espandere meglio, avere anche la possibilità di ragionare su un accesso privilegiato per esempio di queste tecnologie per la regione, cosa che non è sempre possibile, noi come azienda lo abbiamo fatto col governatore precedente, ma l'idea comunque pur nel rispetto delle regole di avere un presidio contro determinate patologie soprattutto in maniera emergenziale nel proprio territorio credo che sia un grande valore per i cittadini che nel territorio abitano. Indubbiamente poi la regione toscana deve far fronte ad una serie di difficoltà rispetto ad altre regioni del paese italiano e se poi comparate a livello europeo anche maggiore, sono difficoltà infrastrutturali, sono difficoltà sicuramente che non aiutano facilmente lo sviluppo, però la cosa positiva è che qui le competenze scientifiche ci sono e poiché nel nostro settore è imprescindibile la competenza scientifica per fare tecnologie, credo che il punto essenziale ci sia, il resto sia sicuramente più facile. Quindi l'augurio è di iniziare subito un dialogo fattivo con la controparte politica perché quello che io e Riccardo abbiamo siglato rappresenta come diceva giustamente un qualcosa di straordinario non solo per il tessuto toscano ma per l'Italia stessa e vorremmo che l'Italia riconoscesse il valore di industriali come noi che credono non tanto solo nelle ricadute economiche e sociali di fare impresa nel territorio italiano ma in questo caso anche delle ricadute di salute che queste nostre innovazioni hanno per tutti i cittadini. Tra l'altro ricordiamo una battuta ricorrente in Confindustria che fare impresa in Italia è già un'impresa e quindi già si parla con un gap, burocrazia, tasso, insomma tutte tematiche che ben conosciamo e che abbiamo affrontato in tante puntate anche con i colleghi del Sole 24 Ore da Roma. Torniamo però alla storia di queste due aziende, al loro futuro. Dottor Baccheschi, quali a suo avviso saranno, quali sono i punti che si augura, saranno il cammino di Achilles Vaccine, la sua evoluzione? Dunque, io mi auguro che si possa continuare a lavorare prima di tutto in entrambi i settori che abbiamo scelto per il nostro piano strategico che sono quello dei vaccini che sta nel nostro nome ed è nel nostro DNA ed è anche il motivo per cui siamo nati, ma anche quello degli anticorpi monoclonali che in corso proprio d'opera nella costruzione della strategia dell'azienda si è rivelato sempre più vicino e sempre più integrato all'aspetto invece, alla parte invece legata ai vaccini. Quindi vorremmo continuare focalizzando con due focus, diciamo, andare avanti con questi due focus sempre più integrati e sempre più vicini, cercando di collaborare proprio con le eccellenze del territorio per adesso perché ci sembra opportuno ritornare a lavorare qui e bene. e uso una battuta che ha usato qualche giorno fa un collega in una importante istituzione europea che parlando di costruzione di nuovi impianti industriali a un certo punto ha detto per fare un nuovo insediamento industriale normalmente nel campo delle biotecnologie normalmente ci vogliono 50 key persons cioè 50 persone circa che possono ricoprire la filiera produttiva dagli aspetti manifatturieri, della qualità, dell'assicurazione della qualità e poi, diciamo, anche la parte più tecnico-scientifica e in tutta Europa dei distretti dove si possono trovare 50 persone di questo tipo si contano sulle dita di una mano ecco, uno di questi diti è Siena e questo è un valore che è stato ancora, secondo me, poco sfruttato perché qua abbiamo un gigante preziosissimo che è GSK, ma che viene da Novartis, che viene da Chiron e che viene da Sclavo ma potremmo pensare finalmente adesso utilizzando le risorse che finalmente stanno arrivando anche in Italia non dimentichiamoci mai che il nostro settore in Italia statisticamente non è finanziato se andiamo a vedere i numeri dei finanziamenti biotech in Europa soprattutto di fonte privata ma anche pubblica l'Italia è praticamente zero dal punto di vista proprio statistico non è rilevante se paragonata con gli altri quindi stiamo parlando di un, purtroppo, di un paese che fino ad oggi non ha aiutato molto adesso sta pandemia cosa ha fatto? ha acceso i riflettori su questa grandissima carenza e finalmente adesso l'attenzione è arrivata potrebbero arrivare dei fondi importanti noi vorremmo stare in questo fiume Assolutamente, Siena è con voi, grazie a voi quello che non arrivano, e questo è un dato certo e io approfittando della presenza di questi due importanti ospiti vorrei con loro affrontare questo tema che è un tema del paese non arrivano, non arrivano i vaccini chiedo alla regia di collegarci con il Sole 24 Ore vediamo proprio il titolo di apertura della pagina online del Sole 24 Ore che è dedicato proprio ovviamente a questa emergenza nell'emergenza, vaccino AstraZeneca ha usato solo una dose su 10 l'azienda dimezza la fornitura obiettivo 5 milioni di dosi all'Italia entro marzo l'Europa e gli Stati Uniti la conferma i vaccini anti-Covid sono sicuri il problema è che nel nostro paese non arrivano, siamo già un po' sul fanalino di coda a livello europeo e questo è ovviamente un problema nel problema c'era forse, ahimè, un po' da aspettarci e a me toccano tutte le domande di natura politica allora, sì, devo dire che lo sto torchiando oggi no, ma è un piacere nel senso che e contemporaneamente oltre a fare anche il Presidente del Gruppo Sanità della Toscana sono anche Presidente Nazionale della Confindustria dei Dispositivi Medici quindi ho passato un anno a dover rincorrere la necessità prima delle mascherine poi dei presidi di protezione poi dei ventilatori polmonari e poi degli aghi insomma è stato delle siringhe quindi è stato veramente un anno molto complesso e quindi devo dire che non era così stranamente non immaginabile che arrivati nel piano vaccinale il piano vaccinale fosse altrettanto difficile da portare a termine anche perché noi italiani siamo molto facili a farci prendere dai facili entusiasmi quindi la scelta che è stata fatta nel piano vaccinale è stata quella di iniziare dal personale medico giustamente però è stato fatto in maniera semplice perché i medici stanno negli ospedali e quindi è molto facile diciamo inoculare i medici tutta un'altra storia invece è muoversi sul territorio tant'è vero che la prima fascia che doveva essere vaccinata era quella degli ultraottantenni noi dati alla mano siamo molto molto indietro rispetto a quello che potrebbe essere perché un conto è entrare nel territorio incominciare poi anche a combattere con la mentalità del ha senso o non ha senso fare la vaccinazione e quindi è un aspetto molto complicato devo anche dire che questo lo dico a questo punto guardando per esempio l'Inghilterra l'Inghilterra è un paese che è stato preso in giro all'inizio perché aveva affrontato la pandemia molto male invece hanno avuto la capacità di reagire si sono rimboccati le maniche ma anche uno vede Amazonia perché loro sono stati capaci di rispondere a questo problema perché la GSK che veniva giustamente citata precedentemente è un'azienda inglese quindi loro hanno accesso direttamente dove vengono prodotti i vaccini il concetto dell'assenza di produzione nel nostro paese di presidi come quello dei vaccini piuttosto che dei dispositivi medici è un tema molto importante allora quello che diceva Bacheschi prima è fondamentale allora l'intervento politico dove sta? sta a dire stiamo attenti perché se noi non abbiamo anche noi le aziende sul territorio che producono e che possono essere i primi interlocutori e poi è chiaro che noi arriviamo per ultimo e dico ancora un'altra cosa anche in più nel senso che la scelta dell'Inghilterra io non voglio entrare nel piano vaccinale perché non è di mia competenza quello che però posso dire è che non so se l'Italia possa sfruttare al meglio le tecnologie che oggi l'industria mette a disposizione poiché io oggi sono qui come industriale voglio parlare della mia industria quello che posso dire è che noi abbiamo proprio sfruttando alcune delle tecnologie che saranno messe a disposizione per Achilles Vaccine anche prodotto un diagnostico molto potente tra l'altro standardizzato dalla Organizzazione Mondiale della Salute che ha rilasciato uno standard internazionale e che serve proprio per vedere quanto l'individuo è o no già protetto per i propri anticorpi e quindi serve sia nell'epoca vaccinale per verificare se uno si è immunizzato perché è vero oggi i dati dicono che c'è molta risposta positiva però nessuno sa quanto i vari vaccini che stanno arrivando siano in realtà in grado di instaurare una risposta immunitaria davvero proteggente e forse anche qui in un'ottica di carenza di accesso ai vaccini usare test di questo tipo in fase anticipata ti permette anche di capire se uno che ha già preso per esempio il Covid debba essere rivaccinato sprecando la dose perché la scelta di essere andata sul personale sanitario è stata sicuramente una scelta intelligente ma quante di queste persone che sono state esposte a Covid in ambienti fortemente infetti magari non avevano già sviluppato una risposta immunitaria tale per cui con un semplice test diagnostico si poteva evitare di sprecare una dose di vaccino ecco questi sono alcuni esempi di come la tecnologia per esempio anche una tecnologia italiana possa aiutare a gestire meglio una situazione comunque complessa perché alla fine un'altra dei dati che bisogna dire è che noi siamo molto preoccupati su come il piano vaccinale in Italia va ricordiamoci che un dato recente è che l'80% della produzione vaccinale è stata usata da 5 o 6 paesi gli altri non hanno ancora ricevuto niente quindi questo dimostra che c'è ancora un forte disequilibrio di accesso a questo tipo di vaccino è giusto che noi guardiamo il nostro paese è giusto che guardiamo i paesi virtuosi perché noi siamo tra i paesi che dovrebbero aver avuto maggiore semplicità nell'avere questo vaccino se guardiamo il mondo c'è molta disomogeneità un altro elemento io approfitto nuovamente della presenza di due esperti del settore per convogliare delle informazioni corrette anche su ovviamente dei temi su cui la gente dibatte è quello delle varianti dottor Baccheschi ovviamente quella inglese la variante brasiliana il dato di oggi appunto in particolare legato alla crescita della variante inglese nel nostro paese il ministro Speranza parlerà oggi in Parlamento anche qui in maniera semplice ci aiuta a spiegare cos'è una variante come funziona perché si verifica dunque le varianti di questo tipo di virus sono varianti abbastanza frequenti purtroppo all'inizio quando è scoppiata la pandemia sembrava che il virus il SARS-CoV-2 fosse un virus con un'attitudine alla variante poco evidente poi invece abbiamo visto che dopo circa un anno anzi meno di un anno ha cominciato a variare in alcune in alcune aree e quindi a presentare delle forme superficiali del virus diverse e in qualche modo diversamente interpretabili poi dal sistema immunitario questo è un fenomeno che esiste su tantissimi virus in primis quello dell'influenza che è ben conosciuto a tutti per fare un esempio pratico e che colpisce poi l'efficacia dei vaccini e anche quella degli anticorpi quello che possiamo dire noi è che i test che abbiamo fatto su nel proprio nel mad lab con il professor Rapoli sull'anticorpo monotonale non ha avuto effetti negativi né con la variante di funzionamento né con la variante inglese né con quella brasiliana e neppure con quella sudafricana queste sono notizie proprio di questi giorni non è così per esempio per il prodotto Lilli e per il prodotto Regeneron che invece rispettivamente uno funziona un po' peggio con quella inglese e uno non funziona per niente se non erro con quella brasiliana quindi questo a dire è che questo fenomeno purtroppo ormai ne dobbiamo tener conto anche nello sviluppo futuro dei prodotti vaccinali e anche anticorpali sui vaccini le strategie sono molte e sarebbe troppo lungo parlarne qui però è un problema purtroppo reale e che metterà alla prova molti di questi vaccini che sono in questo momento in commercio o in registrazione lo sapremo purtroppo fra un po' quando gli studi clinici porteranno delle risposte in questo senso sugli anticorpi invece quello che si può fare e già dobbiamo pensarci adesso è quello di andare verso dei cocktail di prodotti perché sugli anticorpi è possibile sviluppare tipologie di anticorpo molto simili ma diverse che poi possono essere formulate incluse nella stessa dose e coprire virus che sono parzialmente modificati e dare un più ampio spettro di protezione quindi questo richiede ulteriore sviluppo ulteriore lavoro sia di ricerca che di sviluppo prodotto allora un ultimo black pubblicitario per noi e poi l'ultima tranche di questa diretta insieme insieme al dottor Baccheschi e al dottor Boggetti collegati qui in diretta con noi per questa puntata straordinaria di Step Economia e Territorio rimanete con noi a fra pochissimo Eccoci tornati in diretta per l'ultimo tratto di questa puntata straordinaria di Step Economia e Territorio siamo in compagnia del dottor Boggetti di Esi di Agnossi Cassenese e del dottor Baccheschi di Achilles Vaccin prima di tornare alle ultime battute dei nostri ospiti andiamo a una veloce rassegna abbiamo visto il titolo di apertura del Sole 24 Ore lanza sui vaccini adesso andiamo sul Corriere della Sera la prima notizia è una triste notizia il suicidio di Antonio Catricalara vi ricordate ex vice ministro ed ex presidente dell'Antitrust titolo centropagina slitta la riapertura di cinema e palestra seconde casa stop in arancione nuove chiusure Draghi riunisce i ministri scorrendo ancora il Corriere Brescia arancione scuro contro la terza ondata tutto iniziato in un asilo poi due feste di compleanno scorrendo ancora dal Veneto al Lazio così le varianti del virus impongono cambi di fascia e chiusure cosa sappiamo cosa si può fare e poi quello che vi dicevamo è un tema che abbiamo commentato anche con i nostri ospiti dove si inceppano i vaccini perché stiamo usando meno di tre dosi su quattro e poi c'è l'arrivo a Roma all'aeroporto di Roma del ex ambasciatore morto in Africa la morte di Nataggio Giacovacci funerale di Stato per i due eroi e a centropagine vediamo la foto del premier Draghi con l'arrivo delle bare all'aeroporto di Ciampino allora torniamo in studio queste le notizie del Corriere in questo momento torniamo a un tema dei temi lo accennava prima il dottor Boggetti sulla scena anche delle riflessioni che ha condiviso con noi il dottor Baccheschi tutta questa emergenza ha fotografato un dato cioè l'industria farmaceutica il produrre farmaci in particolare in questo caso contro malattie che coinvolgono intere popolazioni rappresenta non solo un elemento economico importante per un paese ma un elemento sociale importantissimo mai ovviamente come in questo momento tutto questo è stato fotografato con violenza e l'Italia in questo si trova in difficoltà Sì ora è sempre molto brutto dire lo avevo detto perché è una cosa un po' come i bambini dell'asilo però in realtà noi è da molto tempo che sosteniamo che il nostro paese ha smesso di investire nell'industria del locale e quando parlo di industria locale non intendo industria prettamente solo italiana ma industria che venga qua in Italia a fare produzione ricerca e sviluppo che poi sono le parti qualificanti perché fare il prodotto sul territorio vuol dire averlo disponibile per la popolazione e lo abbiamo detto anche prima purtroppo questo è accaduto per due grandi motivi secondo me il primo è perché si è cercato negli ultimi dieci anni un ripiano dei conti della salute giocando principalmente sui fornitori della salute che non sono stati pagati che sono stati dove c'è stata una centralizzazione degli acquisti che ha portato a massificare cosa comperavo senza valorizzare l'innovazione noi sappiamo che l'Italia è un paese di innovazione non è un paese di massificazione di produzione cioè per dirlo in altri termini se vuoi un prodotto a basso prezzo non lo puoi produrre in Italia per definizione noi siamo aziende di eccellenza produttiva in ogni campo in ogni settore e in più ovviamente il fatto che questa completa disattenzione ne lo citava prima anche il mio collega Bacheschi sul nostro comparto dove non si è mai guardato il comparto delle life science come un valore invece rappresenta oltre il 10% del pilo italiano poteva rappresentare un motore di sviluppo quello che è successo è che piano piano le aziende se ne sono andate qualcuna è morta qualcuna è stata comperata e oramai le aziende che davvero hanno un valore sul nostro territorio sono pochissime sarebbe bello che a questo punto il paese incominciasse a fare quello che hanno già fatto molti altri paesi innanzitutto riconoscere quali sono le aziende considerate strategiche nel mondo della salute perché oggi si è scoperto che il mondo della salute oltre a quello dei trasporti dell'energia delle telecomunicazioni e della difesa è uno dei comparti strategici per un paese quindi riconoscesse quali sono le aziende che vale la pena e come ha detto il presidente Draghi provare anche a capire a chi dare un supporto perché qui dobbiamo uscire dalla mentalità del diamo qualcosa un pezzo a tutti diffuso che non serve a nessuno ma capire dove gli investimenti possono ridare un ritorno di tipo economico per il paese e di tipo occupazionale ed eventualmente anche di tipo sanitario siamo quasi in chiusura vorrei però chiedere prima dei saluti al dottor Baccheschi ritornare su un tema lei ha una lunga esperienza di lavoro in questo campo ha visto questo mondo anche cambiare mi riferisco in particolare all'uso degli anticorpi il futuro degli anticorpi quale sarà? Allora io sono nell'industria immunofarmaceutica ormai da 30 anni manca manca pochi mesi e in 30 anni quello che ho visto è che a Siena c'è sempre stato un know-how importantissimo a livello mondiale nell'immunofarmaceutica in senso lato quindi quella passiva quella attiva quindi vaccini anticorpi sieri immunoglobuline tutto quello che è l'immunofarmaceutica a Siena c'è sempre stata non solo ma siamo sempre stati fra i migliori al mondo in questi 30 anni però è successa una cosa che 30 anni fa eravamo i migliori al mondo in un segmento che era un cinquantesimo dell'intero fatturato mondiale farmaceutico in 30 anni e proiettandoci oltre i prossimi 5 anni questo cinquantesimo diventerà un quinto quindi essere i più bravi al mondo di una piccolissima torta va bene però quello che è successo è che c'è stata poca attenzione sicuramente ci sono stati anche degli errori ma quelli si fanno tutti però adesso noi siamo tuttora i più bravi al mondo di un qualcosa che fra pochi anni sarà un quinto dell'intero perché vaccini anticorpi monoconali sono stimati essere un quinto dell'intero fatturato mondiale farmaceutico quindi questa è l'opportunità più grande che questo territorio potrà avere nei prossimi anni perché essere bravi siamo ancora bravi solo che adesso la torta è diventata enorme quindi bisogna prendere delle buone fette possiamo giocare su una partita completamente diversa quindi è questo quello che vedo io sul mercato Riccardo possiamo poi dire una cosa adesso che siamo qua dalla televisione Amazoni ce lo permetterà di invitare il presidente Gianni a vedere quello che stiamo facendo perché io e te stiamo investendo in impianti produttivi io ho in oltre 10.000 metri quadri di produzione Biotech che sarà il primo impianto in Italia e tra i primi in Europa nel settore della diagnostica e tu? Io mi auguro di poterti seguire stiamo lavorando a un progetto molto grande e per adesso non posso dire granché ma quello che ci che ci auguriamo è di poter attrarre delle risorse finanziarie sul territorio per consentire a questi progetti che sono bellissimi di avere anche uno sfogo produttivo quanto prima Quindi invitiamo il presidente a venireci a trovare a vedere che cosa stiamo facendo Esatto quindi è un invito ufficiale che parte per il presidente Gianni a vedere queste realtà importanti del territorio senese avete sentito poi il volume di cui si parla tra l'altro a livello italiano lei ha una cabina di regia col suo ruolo di presidente nazionale di confindustria e dispositivi medici beh in questo momento credo che anche qui si continuano sulle dita di una mano aziende che fanno sviluppo di questo genere così Sì chiaramente le aziende nel settore della diagnostica sono poche qui sul territorio toscano ne abbiamo due importanti di cui ovviamente siamo noi a livello nazionale chi fa produzione ricerca così come facciamo noi sono pochissime forse siamo tra le poche e quindi davvero rappresentiamo un'eccellenza di cui questo territorio e l'intera toscana devono andare a fiere Allora si chiude qui questa puntata straordinaria di Step io vi do l'appuntamento per la prossima di diretta come di consueto il venerdì alle 13 ci sposteremo dal territorio senese a quello grossetano per raccontare due aziende importanti tra l'altro una ha appena festeggiato i suoi 40 anni e l'ha fatto aprendo una nuova filiera negli Stati Uniti avendo già diverse nel Sud America ne avremo amministratore legato collegato con noi parleremo ovviamente dei primi passi del governo Draghi collegandoci con la redazione del Sole 24 ore a Roma con Carlo Marroni nostro inviato d'eccezione e vi daremo ovviamente tutti gli aggiornamenti anche in tema emergenza Covid intanto ringrazio sentitamente il Dottor Boggetti il Dottor Baccheschi ovviamente un grandissimo grandissimo in bocca al lupo e complimenti per quello che state realizzando qua nel territorio senese quindi deve essere un orgoglio per tutti a maggior ragione in un tempo così complesso come quello che viviamo vi ringrazio per la vostra attenzione vi ricordo che potete rivedere questa come le altre puntate on demand sulla web tv di Canale 3 o sui social di Confindustria Toscana Sud questa puntata in particolare sarà ovviamente rilanciata anche dai social DDS e Achilles grazie mille una buona continuazione spazio adesso alla redazione di Canale 3 di Canale 3 di Canale 3 Grazie a tutti.